Perché l'amministrazione comunale di Rovigo ha deciso di aderire a questa serie di iniziative contro la tratta degli esseri umani? Perché è un tema assolutamente fondamentale, i numeri stanno aumentando sempre di più. Noi pensavamo che il tema dello sfruttamento della schiavitù, perché dobbiamo dare i nomi corretti alle cose, fosse una cosa legata al secolo scorso o addirittura ai secoli precedenti, non è così, purtroppo lo sappiamo molto bene. I numeri che abbiamo di fronte anche nel nostro territorio, che è generalmente considerato un territorio meno rischioso da questo punto di vista, stanno cominciando ad essere assolutamente preoccupanti. Come amministrazione comunale da tempo stiamo collaborando con Caritas, il manto di Martino, che è il braccio operativo di Caritas in questo ambito, nell'ambito di questi progetti, che prima si chiamavano nave, adesso si chiama navigare, in collaborazione con la regione del Veneto. Oggi pomeriggio ci sarà anche un momento di approfondimento con i ragazzi iscritti al corso di laurea magistrale ciclonico di giurisprudenza, quindi con l'Università di Ferrara, in collaborazione con il CURRA. Noi ci crediamo, perché riteniamo che sia assolutamente doveroso e fondamentale mettere la nostra amministrazione a disposizione per prevenire e combattere un fenomeno che, oltre che essere assolutamente odioso, comincia a essere veramente molto preoccupante anche da noi. Diciassettesima giornata europea contro la tratta degli esseri umani, anche Caritas di Rovigo e il Comune di Rovigo aderiranno alle iniziative per ricordare quanto sia sbagliato tutto questo, con quali iniziative che ci saranno in centro? Allora, due iniziative ci sono già state la settimana scorsa, la prima che ogni cittadino può vedere, insomma è un banner che è sopra la Gran Guardia, il banner Rovigo non tratta, che è stato esposto dal 18, che era la giornata, insomma è da quel giorno. Noi stiamo facendo tutta una serie di iniziative, la sera del 18 ottobre c'è stata la proiezione di un film al Cinema Duomo, Princess, e continuiamo oggi pomeriggio presso la facoltà di giurisprudenza qui a Rovigo, con l'Università di Ferrara, faremo una lezione aperta quindi agli studenti ma anche a chi vorrà partecipare proprio sui fenomeni dello sfruttamento e proprio su tutto il fenomeno dello sfruttamento della tratta delle persone.